Alla denuncia della CGL di Teramo sulla difficile situazione in cui versano i lavoratori e le lavoratrici delle menze dell'ASL Teramana, senza stipendio da novembre 2022, ha fatto chiarezza l'azienda sanitaria. L'ASL di Teramo fa rilevare come, da tempo, siano in atto iniziative volte alla risoluzione delle criticità inerenti al servizio di ristorazione, inclusa la difficoltà da parte della PAP e il fornitore a derogare puntualmente le spettanze ai propri dipendenti. L'ASL, da parte sua, conferma la liquidazione tempestiva delle somme dovute all'appaltatore per il servizio reso, in modo da garantire alla ditta la liquidità necessaria per provvedere al pagamento degli stipendi. In particolare, sono state già liquidate le somme relative al mese di dicembre e ci si accinge a provvedere al pagamento di gennaio. Sono 100 i dipendenti della PAP che lavorano nelle menze dei quattro ospedali teramani e non è la prima volta che restano senza stipendio. L'ASL di Teramo in questo periodo sta anche valutando iniziative alternative per l'avvio di una procedura di affidamento ad un nuovo fornitore, anche se l'ARIC, soggetto aggregatore della regione Abruzzo, ha già avviato una gara a Valenza regionale per il medesimo servizio di ristorazione ospedaliera. Sarà quindi necessario attendere le risultanze di questa gara. Intanto, il direttore generale Maurizio Di Giosia ha chiesto direttamente alla PAP notizie sul pagamento degli stipendi al personale. L'azienda ha così risposto che l'unica mensilità ancora non corrisposta ai dipendenti PAP dei presidi ospedalieri di Teramo, Atri, Giulianova e Santomero riguarda solo ed esclusivamente dicembre 2022, affermando che le tredicesime sono state pagate a tutti i lavoratori che operano nei presidi e che la mensilità, attualmente in ritardo, sarà erogata entro la metà di febbraio.